E' Piero della sua trovata questo studente, poiché le declinazioni non gli entravano in testa, ha deciso di impararle a ritmo di twist. Son dei balli ritmici un cultore, che dopo di giubbozzo una passione. Ma è il professore di latino, mi ha detto studia, studia, cretino, perciò con gran soddisfazione ho composto il twist della declinazione. Rosa nominativo, rose genitivo, rose dativo, rosa maturativo, rosa boccativo, rosa arrativo. Solo così puoi cantare, puoi ballare, puoi studiare la rosa è bella, assomiglia di una stella, e così le declinazioni sono entrate tutte qui, nella loro testa.